Un'altra giornata negativa per le principali borse europee. Sull'ottovolante Piazza Affari, partita in territorio positivo, ha virato in perdita arrivando a cedere più di un punto percentuale per poi recuperare e chiudere a meno 0,65%. Tra i bancari scendono intese Unicredit, mentre sale MPS. Maglia nera di giornata tra le piazze diventa così Parigi che lascia sul campo l'1,15%. Male anche Francoforte e Madrid che perdono rispettivamente un punto e mezzo punto percentuale circa. Di poco sopra la parità invece Londra. Sul mercato dei cambi è stabile l'euro che viene scambiato a 1,35$ mentre lo yen scende ai minimi dal 2010. Cattive notizie infine sul fronte degli spread con un'impennata del differenziale di rendimento tra BTP italiani e Bund tedeschi che oggi chiude sopra i 290 punti base.